Ciao a tutti e buona giornata! Oggi sto per suonare un pezzo con il sopranino, come vedete è molto più piccolo del normale cro soprano che uso io e che usate quasi tutti voi. Attenzione, se fosse esattamente la metà, chiudendo tutto io farei un DO, un DO alto. In realtà se lo guardate non è la metà, è più piccolo. Quindi cosa ho lì? Che se io chiudo tutto in realtà faccio un FA. Quindi questo strumentino è sulla scala di FA, FA, SOL, LA, SI bemolle, DO, RE, MI, capito? Cioè è tutto quattro note sopra, io chiudo tutto, in realtà sto facendo un FA. Le note che vedete in sovrimpressione sono quelle che sto suonando io, quindi voi con il vostro soprano potrete tranquillamente suonare questa deliziosa melodia della Sardegna. Vedrete però che le posizioni che faccio io sono diverse, perché ripeto, chiudendo tutto io non faccio un DO, faccio un FA. Buon divertimento! Guardatemi bene mentre suono e poi suonate il brano guardando le note qui. Forza! Buon divertimento! 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 Grazie a tutti